Era il 22 gennaio scorso quando sulla strada provinciale 45 tra Agropoli e Prignano-Cilento venivano girate queste scene. Una situazione che andava avanti da oltre un anno con tutti gli saggi del caso. Adesso però si deve parlare al passato perché a volte i miracoli e i sogni più reconditi si concretizzano. In questi giorni infatti stanno concludendosi i lavori di ripristino che dovranno portare a breve alla definitiva riapertura. La strada, tra l'altro molto frequentata perché di comodo accesso ad Agropoli, era chiusa dall'inizio del 2023 in seguito di un importante movimento franoso che era in essere da diversi anni. Inizialmente il transito era vietato ai mezzi pesanti e consentito alle vetture a senso alternato. Dopo il definitivo crollo la provincia di Salerno ne ha indisposto la definitiva chiusura. Da quel giorno di mesi ne sono trascorsi oltre 12 ma oggi arriva uno spiraglio di novità, un vero e proprio miracolo in salsa cilentana. Tanti gli articoli e le battaglie negli ultimi tempi portati avanti anche da queste emittente. Al momento è già possibile transitare anche perché sono stati eliminati i segnali che fino a qualche giorno fa bloccavano il passaggio a qualsiasi mezzo, oltre che i blocchi in cemento. Si attende la apertura ufficiale anche perché dovrebbero esserci collaudi e prove di carico, ma la cosa dovrebbe essere a stretto giro. La speranza adesso è che non ci siano tagli del nastro, fasce, risate, foto in posa ed applausi dei soliti noti. Il disagio c'è stato ed anche tanto. I tempi sono stati fin troppo lunghi oggi per sorridere ed applaudire, come anche per ringraziare. Qualcosa si è mosso, non si può negarlo, ma sempre troppo tardi. Andando al sodo c'è stato un rinforzo del lato inferiore della strada, con consolidamento tramite un gabbione. Sarà vera gloria? Solo il tempo darà una risposta a questa domanda.